Ciao a tutti ragazzi, sono AndraGamer e benvenuti sul quarto video extra su VRChat Allora, volevo soltanto dirvi di mettere un mi piace, iscrivetevi al canale, attivare la campanellina per non perdervi un altro video su un altro gioco e iscrivetevi in qualche momento Allora, vi dico che questo è l'ultimo video extra che faccio Allora, lo so che vi dispiace, però questo è l'ultimo video che faccio, è l'ultimo video extra Magari passerò a un altro gioco, così ci libertiamo Ma comunque dovremmo trovare degli oggetti nel Murder 4, perché siamo nel mondo di Murder 4 Oh cacchio, uno dog ciao Allora, non so dove trovare questo clue Si chiamano clues, e quindi non so dove trovarli Allora, penso che si trovino qua No, erano già aperti Cioè, erano già aperti Allora, non saranno mica qua sopra? No, non riesco, perché sono troppo bassino Perché ho messo anche la skin di Pico, di Friday Night Funkin Forse lo conoscete Ma comunque Non so dove si trovano i clue, ma li andiamo a cercare da un'altra parte E penso di riuscire a trovarli Trovato! Ne ho trovato uno, raga Ora dovremo passare a trovarne degli altri Aspetta, eh, penso di averne visto uno qua Ah, no Oh, eh, che... che? E penso che c'è uno di te No, penso che ce n'è uno qua Non si trova da nessuna parte Aspetta Forse l'hanno controllato qua in i cassetti Eh, li ho aperti io, ciccio Allora Vediamo un po' qui Che cosa c'è qua? Non mi direi che c'è un clue, non so Una fotografia Non lo so Non li troviamo da nessuna parte, raga Cioè, è impossibile che non li troviamo Impossibile Cioè Cioè, questa cosa non è normale Dovrebbero essere da qualche parte Però non so dove trovarli Cioè, li abbiamo cercati a per tutto sia io Che gli altri miei compagni Ma non li troviamo da nessuna parte Beh Direi Di Sponarmi Ah, ecco Ah, ecco Ah, ecco ragazzi Eccoci tutti qua Tutti riuniti In sette Non erano prima tredici Perché forse alcuni hanno lasciato e Siamo diventati sette Ok Let's see here Ok, raga Vado Andiamo a cercare altri Uuuuuh Perché mi ha partito Perché mi ha partito una Una gallina davanti Oddio She can shoot me Che non parla Uè ciccio Parla Parla Speak Speak Niente Non parla Non parla Perfetto ragazzi Direi che su questo video Sul video extra Quarto video extra Lo posso anche concludere qui Andrà Gamer Vi saluta E noi ci vediamo per un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi